Diversi commentatori ipotizzano che la principessa stia cercando di diffondere positività dopo un periodo di grandi preoccupazioni La famiglia reale britannica è costantemente sotto i riflettori, gesta, scelte di abbigliamento ed espressioni vengono prontamente analizzati dai media di tutto il mondo Anche le fotografie ufficiali pubblicate dalla famiglia Windsor vengono spesso esaminate con attenzione, alla ricerca di significati nascosti o segnali che possano rivelare qualcosa di più sulla vita privata dei membri reali In questi giorni, uno scatto particolare ha catturato l'attenzione degli osservatori, generando un vivace dibattito tra gli esperti e i fan della monarchia Lo scatto in questione, pubblicato da Kate Middleton in occasione del sesto compleanno del principe Lewis, ha suscitato grande interesse Sebbene all'apparenza possa sembrare un semplice ritratto familiare, alcuni esperti di dinamiche reali hanno notato dettagli che potrebbero nascondere un messaggio segreto, portando i media a interrogarsi sul significato più profondo dietro questa fotografia Un messaggio nascosto nel sorriso di Lewis.La foto, scattata dalla stessa principessa del Galles, mostra il principe Lewis sdraiato su una coperta in giardino, con un sorriso vivace caratteristico Lewis indossa una camicia quadricolor cammello, abbinata a pantaloncini blu nevi, un outfit che ha attirato l'attenzione degli esperti di linguaggio del corpo L'esperta Judy James ha sottolineato come questa camicia sia stata già vista in altre occasioni significative, come nella foto della festa della mamma del 2024, che è stata successivamente ritirata, e durante una visita a un baby bank nel dicembre 2023 Secondo James, la scelta di far indossare nuovamente questa camicia a Lewis potrebbe essere un segnale molto particolare In un periodo in cui la salute della principessa Kate è al centro dell'attenzione pubblica, a seguito della sua diagnosi di cancro e del trattamento di chemioterapia preventiva La scelta di far indossare a Lewis una camicia già vista in altre occasioni significative potrebbe essere un modo per rassicurare il pubblico che, nonostante le sfide che la famiglia sta affrontando, la vita quotidiana continua in modo relativamente normal Per i fan della famiglia reale, vedere Lewis indossare ancora una volta un capo d'abbigliamento già familiare può rappresentare un messaggio positivo, nonostante le difficoltà, la vita quotidiana della famiglia procede in modo relativamente normal Oltre al possibile messaggio nascosto, la pubblicazione della fotografia ha segnato anche un cambiamento nelle abitudini della famiglia reale Tradizionalmente, le foto dei compleanni dei figli di William e Kate venivano rilasciate ai media sotto embargo il giorno prima della loro pubblicazione ufficiale Quest'anno, invece, la foto di Lewis è stata condivisa direttamente sui social media il giorno del suo compleanno, senza alcun preavviso ai giornalisti